La piscina naturale del Lido, che ad ogni santa pioggia si forma in Piazzale Amendola, fra qualche mese sarà solo un triste e bagnato ricordo. Sono ufficialmente partiti questa mattina i lavori per risolvere il problema degli allagamenti. Questa mattina è consegnata la ditta Francesconi Costruzioni di Mondolfo, che ha vinto l'appalto, l'area nella quale nei prossimi giorni sorgerà il cantiere che lavorerà circa sette mesi, tempo e condizioni meteo permettendo, per mettere fine al problema degli allagamenti. L'opera si divide in tre fasi. La prima prevede la realizzazione di una grande vasca di raccolta in calcestruzzo, che verrà installata sotto Piazzale Amendola. La seconda sarà dedicata al collegamento di tutte le caditoie di Viale Cairoli con la vasca, evitando così che continuino a scaricare per dispersione. La terza parte dei lavori sarà invece dedicata alla realizzazione di una tubatura che dalla vasca in questione, attraverso delle pompe a pressione, spingerà l'acqua all'interno del porto canale. Le pompe sono in grado di scaricare circa 350 litri d'acqua al secondo. Beh, intanto è un'ulteriore dimostrazione a tutte quelle persone che insinuavano che noi non eravamo seri, che non l'avremmo fatto. Questa è la dimostrazione che noi quello che diciamo facciamo, ma soprattutto risolviamo i problemi che la città aspettava da decenni. Però veramente questo è un momento, direi, importante, ma anche storico per la città e per questo quartiere che si unisce ad altri momenti storici a cui abbiamo dato grandi risposte. Sindaco, però non sono gli unici lavori di grande respiro che state pensando di attuare sulla città di Fano? Sì, aspettavamo di finire questo lavoro e stiamo già ragionando, anzi stiamo progettando due nuovi sottopassi. Uno che va dalla Darsena Borghese verso il Faro, cioè un sottopasso in via Nazario Savaro, che consentirà l'attraversamento pedoni ciclisti in sicurezza, ma soprattutto ripensiamo un nuovo sottopasso di Viale Cairoli, l'accesso al Lido. Ma su questo interverremo a breve, dove presenteremo anche il progetto. Ma anche questa sarà veramente una grande opera che riqualificherà la città. Particolare attenzione verrà posta alla viabilità, cercando di non creare particolari disagi a residenti e gestori delle attività della zona. L'unico cambio di viabilità riguarderà e non subito via Spontini. Dunque via Spontini sarà chiusa al traffico per un mesetto, per permettere i lavori. non ci saranno altre problematiche sulla viabilità, se non quello di non poter ovviamente parcheggiare, perché ci costruiremo sotto la vasca di raccolta e sul parcheggio di Piazza La Mendola, quello centrale. La vasca sarà posata in opera, ci saranno delle aparatie di 6 metri per raggiungere l'argilla che c'è sotto, quindi ci sarà fatta in maniera tale da non andare a provocare disagi alle strade che passano a destra e a sinistra dal parcheggio. Dunque tutto sommato abbiamo trovato delle soluzioni che non infastidiranno chi vorrà venire anche d'inverno al Lido. Dunque per quanto riguarda la viabilità, a parte via Spontini, non abbiamo grosse ripercussioni.